Grazie a tutti 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 Tutti a tutti Grazie 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 a tutti Motore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Sto e tutti Stop! Stop! Perfetta, stampare subito. Flauti! 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 Un dottore, presto. Flauti sta morendo. Un dottore, un dottore, un dottore! Pronto? Parlo con la segreteria particolare di Sua Eccellenza il Ministro? Sono il Comendatore Sangalle, direttore di Cinecittà. Passatemi subito Sua Eccellenza. Per favore. Dobbiamo stare molto attenti, eh? Non dobbiamo farci sorprendere dagli avvenimenti. Non abbiamo perso tempo, signor Questore. La terza squadra è già partita per Cinecittà con il Commissario Gaetani. Cosa c'entra Gaetani? Chi è Gaetani? Qui non si tratta di ordine pubblico, no? Attori, attrici, artisti, gente strana, da trattarsi con cautela, difficile da capire. Qui sarebbe stato meglio. Ma insomma, dove è andato a finire il Commissario Le Vincenzi? Me lo volete trovare, sì o no? O devo mettere un annuncio sui giornali. Mi scusi. L'avevo vista. Io suono così, tanto per passare il tempo. No, signora, lei suona benissimo. Lei sembra la strana, no, ma io sono un poliziotto che ama la musica. Non lo dica nessuno, ma anch'io ho la mania di sfumare. Davvero? Non mi dica niente, indovino io. Il violino. Siamo lontani. Siamo forti? No, no, signora, è difficile, è ridicolo. Io sono il flauto, signora, il flauto. Ma certo, che sbadata che sono. Lei è un'anticonformista, non poteva suonare più uno strumento come il flauto. È divino. Io spero che lei mi consentirà di ascoltarla. Anzi, perché non suoniamo insieme qualche volta? No, signora, è impossibile. Lei è troppo brava. Lei è una concertista, io sono un po' brutile tante. No, no, la ringrazio per i complimenti, ma non è così. E poi, in due, uno fa coraggio a quell'altro. Pensi, signora, che lei sarebbe la prima spettatrice della mia vita. E poi, durante un panorama come questo, bisognerebbe suonare bene per forza. Commissario, le prendo un binocolo così può vedere persino San Pietro come se ci si trovasse dentro. Grazie, signora, grazie. Ecco qua, se lo regoli, era del mio povero papà. Grazie, signora, grazie. A proposito, anche mio padre, come il suo, era professore universitario. Ma fu costretto ad abbandonare l'insegnamento. Sa, non volle adattarsi e... Attento! Ma che c'è? Che è successo? È la chiesa alla sinistra. È la chiesa nuova. Sì, sì, è la chiesa nuova. Ma che è successo? Sono un predestinato, signora. Commissario! Scusi, devo andare via, signora. Commissario, ma scusi, di chi insegno astrologico è lei? Dell'Aquarius. Ah, allora è proprio un predestinato, signora. Sì, signora. Hai delitti. Allo tu, gli posso raccontare l'ultima? Ferma, ferma, deve essere qui. Sì. Lo sa perché il regime si ispira all'antichi romani? No. Perché Nerone grattava la lira sulle rovine di Roma. Aspetti qui. Ma come, non gli è piaciuta. Eppure parire, no? Scusi. No, mi scusi lei. Senta, senta, senta. Senta, per favore, mi lasci. Devo correre a cercare un'azienda. Io volevo sapere di chi è quella finestra sotto al tetto. Ma scusi, lei chi è? Polizia, sono un commissario. Venga. Mamma mia, hai capito. Era una madama. Se avessi sentito come piangeva la povera signora De Kerber, lei. Ma lo vedo, sono morto in casa. E allora io sono corso subito giù in cerca di una gente, ho incontrato me. No, non è questa. Non è questa. Ecco. Qui ci penso io. Lei vada. Ma telefoni subito alla questura centrale. Ma come? Vada, vada, è urgente. Come lo vuole. Io ero a pochi passi. Se avessi saputo. Se solo avessi sospettato. Senti. Angela Azzurro. Bel commento per un delitto. Sapevo che sarebbe finita così. Lo sapevo. Fin dal giorno in cui lo sposai. Quanto tempo fa. Ha avuto tre mogli, vero? Io sono stata la prima. La vera. Ma lei lo conosce? Beh, avevo visto centinaia di fotografie sui giornali che non conosce. Hans Frank, regista di Janis, di Zabarova, di Zara Leandro. Della Negri, della Garbo, dei Barrymore. Già. Era stata anche a Hollywood. Fu... Fu quando mi abbandonò e partì con quella donna. Ma... Non durò a lungo. Quando realizzava un film, voleva essere lui solo a comandare. E questo in America non era possibile. Perché non mi domanda se l'ho ucciso io? L'ho ucciso lei. Oh... Ma io lo amavo sempre. Come quel primo giorno di tanti anni fa. L'avevo conosciuto nell'ambiente del cinema. Anche se dopo la mia fuga da Budapest con Hans mi misi a fare l'attrice. Fu lui che lo volle. E quindi lei è ungherese. Sembra un romanzo cosmopolita. Come te... Quando fuggì con Hans... Prese l'Oriente Espresso. Non mi ha ancora domandato se ho visto l'assassino. L'ha visto? No. Ero... Ero rimasta di là. Venga. È primavera, perché porta la pelliccia? All'improvviso ho sentito un gran freddo. Mi sembrava di morire. Quando... Quando l'hanno colpito, questa porta era chiusa. Non ha sentito niente. Stava andando via. Deve aver incontrato l'assassino... Sulla porta di casa. Ha del fuoco. Ho... Ho... Ho udito soltanto dei rumori confusi. È un tonfo. Quando... Quando ho aperto quella porta... L'assassino era già scomparso. L'ingresso di casa era spalancato. E lei non l'ha seguito? Hans era ancora vivo. Mormorava qualcosa. Cosa? Diceva... Te lo ripeto... Domani ti farò chiudere in manicomio. Questa... Questa... Persecuzione... Sì... Deve finire. Credeva di parlare ancora con l'assassino. Oh, sì! E poi? È morto. Certamente, eccellenza. Capisco, eccellenza. È importante. La Germania ci guarda. Capisco. In alto, molto in alto, si punta molto su questo film. Sì, sì. Capisco, eccellenza. La collaborazione italo-germanica. Eccellenza, stiamo facendo l'impossibile ai migliori uomini. Perfettamente, eccellenza. Signor Questore! Cosa c'è? Renzi, siete stavolto. È successo un fatto gravissimo, signor Questore. Un omicidio. Ah, bella novità. È il 219esimo da quando sono entrato nella polizia. Hanno ammazzato Hans Trenck! Chi? Il regista tedesco. Quello che stava girando il film dove è morto l'attore. E dove è successo? In una casa vicino a Corso Vittorio. Ancora non so i particolari. E adesso? Succede il film di mondo. Scoppia la guerra. Andiamo, vengo anch'io. Dov'è Capocci? Dov'è in giro Capocci? Certatelo! Vi ho bisogno! Eh, ecco questa le farà bene. Però non ho trovato lo zucchero. Forse non c'è. Io lo prendo sempre amaro. Anche io? Grazie. No, se non brindisci con il caffè. Forse perché lei mi ricorda lo champagne. Ho il Toccai. Sono ungherese. A Hans piaceva molto il Toccai. Anche ora, a tanti anni dal nostro divorzio, le ne facevo sempre venire qualche cassa dalle terre di mio padre. Nel distretto di Ordlava. A proposito, non mi ha ancora domandato perché Hans era venuto qui. Ah, no. Quando... Quando era stanco, agitato, quando... Quando il suo temperamento lo riempiva di ombre... Veniva sempre da me. Diceva che io avevo il potere di calmarlo. Ma lui viveva di chiaroscuri. Aveva bisogno anche del buio. Eh, già. Questo mi ricorda i suoi primi film del periodo espressionista. Era sconvolto. Doveva essere accaduto qualcosa di molto grave. Mi aveva detto che voleva sposarmi di nuovo. Subito. E lei? Non gli ho creduto. Portiere! Eh, buongiorno. Sono quello che ha telefonato poco fa, per il delito. Bene, che interno? 13, all'ultimo piano. Su, c'è già un vostro collega. Che collega? Beh, non lo so uno. È già da molto che è su e... Capo, chi può essere? Non lo so, uno dei nostri prima di noi. Avete telefonato al commissariato di zona? No, è soltanto a voi. La cosa non è chiara. Andiamo a vedere. Voi tre, venite con noi. Avanti. E voi rimanete qui. Mi raccomando, fate attenzione. Presto, presto, presto! A proposito, lei non mi ha ancora domandato chi sono io. A che scopo. Avevo solo un disperato bisogno di parlare. Ehi voi, non fate movimenti farsi! Nessuno si muove. Nessuno si muove. Imprevedibile. Corradi! Come stai? Sono felice di vederci. Anch'io. Volevo passare a te oggi, nel pomeriggio. Capisco, prima volevi occuparti di un delitto per conto tuo, eh? Eh, sono dell'acquario. La costellazione. Aspettatemi fuori, devo parlare con il commissario De Vincenzi. Prego, signora, prego. Dottor Renzi. Dottor Renzi, scusate. Così è quello il famoso commissario De Vincenzi. Non vorrei essere nei suoi panni. Chissà cosa gli sta dicendo in quest'ora. E Nerone grattava la lira sulle rovine di Roma. Carina, eh? C'è un po' di caffè anche per me. Si, si, deve essere perché la caffettiera è grande. Ecco. Mi ha raccontato un vetturino appena arrivato. La bazelletta, eh? Io non dovrei stare il mio stocco. Delle volte non riesca più forte di me. Vedi, il fatto è che tutti noi facciamo spesso cose sbagliate. Eh già. Tu forse hai sbagliato a farmi trasferire. Ma comunque te ne sono molto grato. Avevo saputo che volevano sbatterti a carbonia per punizione, allora ti ho richiesto io. Ti ho ripreso per i capelli, sai. Sulle tue elevate capacità professionali non mi sono dubbi, ma il fatto è che tu non capisci i tempi, i tempi di alto dovere, di disciplinati impegni. Ma tu ci credi. Ai, 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 ai. Lo sapevo. Vedi, uno comincia a guardarsi attorno, poi senza accorgersene comincia a riflettere e poi senza accorgersene si trova a camminare contro corrente. Lo sapevo, il mio stomaco reagisce al caffè, non avrei dovuto lasciarmi tentare. Vedi, questo caso di Cinecittà sembra tagliato su misura per te. Artisti, artistoidi, temperamenti strambi, imprevedibili. E vuoi affidarmi il caso? Vabbè, un caso clamoroso, eh? Perché, oltre a regista Trenca, hanno ammazzato anche il primo attore del suo film, Armando Flauti. Armando Flauti? Altro che chiasso, le spettatrici si metteranno in lutto. E quando è successo? Circa tre ore e mezzo fa, mentre giravo una scena a Cinecittà, il commissario Gaetani è sul posto di spiegare a lui. Sai, in alto, molto in alto, si desidera che le indagini si concludano al più presto e nel migliore dei modi. E per te può essere un'occasione. Grazie. Senti, l'angelo azzurro. Ma dove vai? Comincio le indagini. Buon giorno. Vabbè, ho andiamo Hippos. Vabbè, ho andiamo. Beghe tedesca? No Sono una valangela azzurra La Germania non è di moda? Permette È una maniera un po' strana la sua Di far visita alle signore Che cos'è che volete? Ah, non perdete tempo in cerimonia E accomodatevi, accomodatevi pure Io sono un commissario di polizia Ah Lei studia musica? No Canto In un locale notturno La taverna di Costantino La conoscete? Eppure suonava come una Come una concertista Come si possono donare scarlatti La tecnica Della nota ribattuta Cambiando dito sullo stesso tasto Facendo passare il pollice Sotto le altre dita E incrociando le mani E il sasti Rob E fa E fate Il poliziotto Cerca un portacene Qua non ne vedo Eppure dovrebbe essersi Lei fuma, fuma molto anche Vedo Non fa niente La donna delle pulizie viene più tardi Ma senza scherzi E per parlare di quello che faccio io Che siete venuto Potrebbe essere interessante, no? Ah Siete un poliziotto strano Uno di quelli che vi cucinano Con il sorriso E le belle parole Perché mai dovrei cucinarla? Eh, non si sa mai Ma fate in fretta però, eh Lei è rimasta in casa tutta la mattina Signorina come si chiama? Steiner Roberta Steiner Ma è un nome d'arte Misunde Milande Portaticinese E in verità mi chiamo Palmira Colombo Insomma, è rimasta in casa? No Sono uscita per fare delle spese Sono tornata circa un'ora fa Allora non ha sentito niente Che cos'è che avrei dovuto sentire? Ho solo delle grida, dei rumori Nell'appartamento accato Perché? C'è stato un delitto Hanno ucciso Antrenker Il regista Chi? Le povere cose La conosceva? Figuremes Chi non ha sentito parlare di lui Un uomo celebre Un grosso personaggio Per ora dovrei prepararmi Vi dispiace? Fra mezz'ora ho le prove di un nuovo numero Alla taverna di Costantino Mi dispiace Di averle fatto a far tardi Ma no, fa niente, fa niente Mi devi passare a prendere Chi? Il mio fidanzato O il suo autista Non capisco Dov'è che andate? L'uscita è dall'altra parte Venga fuori E così Ci avete cucinati Proprio per benino E' stata la mancanza Di portacenri in questa stanza Poi il fatto che lei quasi mi aspettava E non ha mostrato nessun stupore Sapendo che ero della polizia E' vero? Cosa? Hans Frank Sì Comissario A questo punto voi vedete in me Un uomo completamente rovinato Io sono Vernieri Il commendatore Vernieri Il produttore Avere Del film di Hans Frank E mi sta dando Le sue generalità Sapendo che tra poco le saprò Cocco non mi ha fatto mal occhio Chiuglielato di così Ma circa quattro ore fa Il primatore del suo film E' stato ucciso Sì Lei abbandona Una nave che affonda Per precipitarsi A sentire un concerto di pianoforte Mi valeva la pena Io sono brava Suona la Scarlatti Con la tecnica delle notte ribattute Comissario Lei E' uomo di mondo Quindi avrà certamente Già capito Che fra me E la signorina Qui presente Abbi una relazione Ammetterà che è un po' strano La sua fidanzata Abita proprio vicino All'appartamento Dove E' stato ucciso Frank Strano? E no E perché è strano? Noi avevamo sott'occhio Avere questo palazzo E quindi poi La mia organizzazione Ha provveduto Ad affittare E a mobiliare Gli appartamenti Per gli attori Del mio film E quindi anche Per la signora Dei Corgolai La signora Dei Corgolai? Fa parte anche lei Del film? Ah, spedò E' quella La prima moglie Di Frank Ma come, commissario? Non sapete che Frank Ha radunato nel film Tutte le donne Della sua vita? A ognuna una parte Averle tutte attorno E sotto di lui Soddisfaceva il suo Formidabile ego Immagino Già, era un uomo Amato da molte donne Ne ha prese Quando ne ha volute E io pavo Fior di contratti Io A proposito di contratti No, scusate Ma io devo andare Devo salvare i salvabili Devo pensare al film Sì, ma oggi pomeriggio Io voglio vedere Tutti a Cinecittà E io là starò Dove volete che vado Con Pardon Anche lei Io non recito in cinema Canto Alla taverna di Costantino Ma se volete Ci sarò Grazie Questa è sua Sì Le l'ha mandata Il suo fidanzato Queste rose No, me le hanno mandate Ma non so nemmeno chi Non c'era nessun biglietto Di accompagnamento Strano Allora, e lo dice a me Mi metto a scervelà Per capire che possa essere Quando sono rientrata dalle spese Ho incontrato per le scale Un garzone di fioraio Mi ha messo le rose in mano Mi ha detto Sono per lei E le scappa via E com'era? Il garzone Un garzone Ma non so Un ragazzo forse Dico forse perché Non l'ho nemmeno guardato in faccia E che aveva Un impermeabile nero Con un cappuccio Quella già fin sui nas Capisco Buonasera 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 Comissario, potete andare. Tu rimani, aspetta. Comissario, io ho 15 anni di professione medica alle spalle, ma non ho mai visto tanti sintomi così contrastanti in un cadavere solo. Non è vero, non può essere vero. Purtroppo Claudio è morto sul sedio. Serio? Parlate di serietà, a me sembra un morto finto, cinematografico. State sentire, glandole gonfie, lingua rossa, nervi tesi come corde, blocco renale, arti contratti. E allora? Veleno, non c'è dubbio, ma di che veleno si tratti Dio solo lo sa. E allora? Vedremo con l'autopsia, ma non ci contate molto. Dottor, sarà il veleno dei Borgia, no? Adesso ti ci metti anche tu. Vede, commissario. In questo ambiente abbiamo la cattiva abitudine di confondere le finzioni della scena con la realtà della vita. Ma noi atteniamoci esclusivamente alla realtà. Torniamo alla fiera del veleno. Ah, dottor, quando che il signor Trenk mi ha appassato io ho messo subito sotto chiave, eh? Quindi non l'ha toccata nessun altro, oltre a te, al regista e all'aiuto regista Telma Mauri. E a me? E a voi? Beh, veramente stamattina presto mi è venuto a chiedere di vederla il comandatore Bernieri. Ah, e il produttore. E allora? Ha guardata e ha detto, dice, anche questa è autentica e costosa, mannaggia a Germania. Immagino che te l'abbia restituita subito. Beh, veramente quando lui ha stato a guardare, a me mi hanno chiamato un attimo in scena, no? Però dopo, quando sono tornato, dopo una mezz'oretta, ho visto che lui mi ha lasciato all'issua la cassa. Succede sempre così. Non si riesce mai a trovare un indizio completo che serva a restringere la rosa dei sospetti. Gaetano, immagino, eh? Sì. Io sono dei miei senzi. Ah, quest'ora mi ha telefonato. Meno male che sia arrivato. Ti passo subito la consiglia. Eh, ma che fretta. Se posso darti un consiglio per me, la traccia dell'ampollina è di primaria importanza. Chi è che può avere un elenco completo dei ruoli femminili del film? Eh, la signorina Telma Mauri, l'aiuto regista, ce l'ha sul copione. Arrivederci. Ciao, ci vediamo. Che vera, te l'ho chiamato, tu? Sì, che mi parte il copione. Che vera, te l'ho chiamato. Sono pronte. Brava. Mi dia una mano, come se fossi il suo regista. Che devo fare? Mi faccia venire le signore. In ordine di apparizione. Come nel film? No. Come nella vita di Hans Strenck. Prendere posto in scena, per favore. Cobinia de Cergolai, la prima moglie, nella prima sedia. Ciao. Lilli Garena Buona amica di Trank, all'epoca del suo trasferimento ad Hollywood Nella seconda serie Vita Garena, figlia di Lilli Nella terza serie Assia Paris, la terza moglie, nella quarta serie La seconda moglie non è qui Dopo il divorzio rimase in America, dove sposò un migliavario Un bello scacco per Trank La signora Paris non c'è Non l'avete avvertita? E come no? Vada a sollecitarla, per favore Come è fatto? Blanca Vertua, nella quinta serie E chi è? La prima attrice Alla parte Roberta Steiner Nella sesta serie Non sapevo che facesse parte del film Una decisione dell'ultima ora Il signor Trank me l'ha comunicata ieri sera E come mai? Era l'unico ruolo ancora scoperto Ma non mi risulta che la signorina Steiner Facesse parte della vita privata di Trank Forse Fino a ieri sera L'idea di questa riunione Mi è stata suggerita da Un mazzo di rose gialle Signora Paris Se la desiderano in teatro È permesso? Signora? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.